Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Leggello e Firenze Sud. L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto a un impianto. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e Pivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla FIPILI, ancora per traffico intenso in direzione Firenze, ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese fino al 16 luglio strada chiusa tra via della Pietra e via di Montughi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!